Con mister in Pagliazzo, mister sicuramente il 2017 è iniziato abbastanza bene per voi, soddisfatto fino a questo momento di questo trend positivo? Diciamo che la squadra è in un buon momento anche a livello organico, una squadra abbastanza pronta fisicamente e quindi di conseguenza anche durante la partita non patisce più di tanto quelle che sono le problematiche di una partita stessa. Abbiamo fatto benino, specialmente nelle due partite interne, però grandi prestazioni abbiamo fatto in trasferta sia con la Sessana che con il Piemonte dove sulla carta erano due partite difficilissime perché erano squadre che lottano come noi per non retrocedere però abbiamo lasciato due punti a Sessa Orunca, a Vidulazio contro la Sessana e domenica scorsa a Piemonte abbiamo lasciato due punti, letteralmente abbiamo stracciato due punti perché potevamo finire la partita con 5-6 gol di scarti, invece dovevamo tornare a Ischia con il risultato di parità e forse l'ultimo, se l'Apile avesse concesso il rigore a tempo scaduto a loro casomai ritornavamo pure qua con una sconfitta, ripeto, però la squadra è in un buon momento, ripeto, organico sta cercando anche di esprimere un discreto gioco quindi per il momento siamo soddisfatti ma domenica ci aspetta una partita difficilissima perché questa è una squadra ostica, già l'affrontammo all'andata è una squadra molto tattica che si chiudono dietro la linea della palla quindi potrebbe crearci delle difficoltà se abbiamo un approccio buono come stiamo facendo nelle ultime settimane possiamo far sì che la partita poi a un certo punto perché poi le partite non vanno sbloccate per forza di cose in un solo momento ma nell'arco dei 95-96 minuti che l'arbitro protrae la stessa partita quindi in un modo o in un altro potremmo venirne a capo, basta che andiamo in campo giocando con raziocinio, concentrati senza rilassarci inizialmente, cosa che qualche partita abbiamo fatto e che le ultime partite non le abbiamo fatte dobbiamo continuare solo su questa falsarica Mi sarebbe vero che manca ancora tanto alla fine però quanto è importante anche per la salvezza diretta questo scontro diretto con la Mariglianese? Ma è importante però alla fin fine poi queste squadre si dovranno incontrare ancora Mariglianese e Pimonte ancora Mariglianese e Albanova, Pimonte e Albanova quindi ci sarà ancora una serie di cose che comunque i punti fra di loro dovranno perdere avere a questo punto 6 punti di vantaggio se noi con il Barano e la Sassana sulle dirette concorrenti non è un vantaggio da poco, è un vantaggio che dobbiamo cercare di mantenere e casomai allungare però non è un vantaggio da poco anche perché la penultima dista da noi almeno tutt'oggi a 16 punti noi dovremmo tenerla a debita a distanza se eventualmente facessimo quintultimi a 10 punti adesso la teniamo a 16 quindi un buon margine di vantaggio lo teniamo però su questo non dobbiamo cullarci perché le partite nascondono sempre delle insidie e dobbiamo far sì che durante queste 3-4 partite perché poi dopo più in là avremo una serie di partite un attimino più difficili anche poi bisogna anche vedere quando andremo a giocare con Savoia, Portici, Afragolese che situazioni di classifica si troveranno può darsi che la classifica sia ancora corta e tutti serviranno punti può darsi che la classifica sia allungata e qualcuna la troveremo meno motivata per fare determinate partite quindi in questo lasso di tempo dobbiamo cercare di accumulare quanto più punti possibile